gentili telespettatori buona giornata la lega nella sua festa milano marittima aveva invitato una piddina la morani che in passato si è scontrata parecchie volte con matteo salvini non capisco il suo invito si doveva parlare di migrazione lampedusa dove a fare una sorta di confronto probabilmente la lega l'ha invitata per metterla in difficoltà ma lei alla fine dice scusate scusate ho un impegno devo un impegno in parlamento non posso partecipare titolo sui giornali l'ultima figuraccia della piddina alla festa leghista in realtà non c'è nessuna figuraccia anche i giornali di centrodestra girano le cose per far sembrare quello che non è non c'è nessuna figuraccia si è accorta che era stata invitata per essere messa in difficoltà e lei dice ma a che pro devo andare alla festa della lega a che pro dice scusate ho un impegno e non è andata ovviamente no chiunque avrebbe fatto questo poi lei dice beh io non sono andata perché salvini se l'è presa con colletta dicendogli che conte odia draghi e letta gli fa il palo letta è una banderuola che non guida il suo partito allora per questo non ci vado degli impegni quindi ha detto prima non ci vado perché degli impegni poi detto è anche offeso ha offeso letta e quindi non si è presentato beh volevo raccontarvi anche questo spaccato della società politica grazie a tutti e buon proseguimento di giornata